Lezione 1. Alternative senza latticini. Ciao Anna, indovina un po'? Ho trovato una fantastica alternativa senza latticini. Ciao John. Questa è un'ottima notizia. Stavo cercando una buona opzione senza latticini. Cosa hai scoperto? Mi sono imbattuto in un delizioso latte di mandorle. È cremoso e ricco, perfetto per sostituire il latte normale in ricette e bevande. Oh, sembra meraviglioso. Ho sentito che il latte di mandorle è una popolare alternativa ai latticini. Ha un sapore simile al latte vaccino. Ha un sapore leggermente nocciolato, ma è piuttosto gradevole. Trovo che sia un cambiamento rinfrescante. Inoltre, è ricco di sostanze nutritive. Questo è interessante. Sono entusiasta di provare il latte di mandorle. Ci sono altre alternative senza latticini che hai trovato? Assolutamente. Un'altra ottima opzione è il latte di cocco. Ha un gusto tropicale unico e si abbina bene sia a piatti dolci che salati. Il latte di cocco sembra intrigante. Adoro il sapore del cocco, quindi posso immaginare che aggiunga un tocco delizioso alle ricette. Hai altri suggerimenti? Sì, c'è anche il latte d'avena. È fatto con avena e ha una consistenza cremosa. È particolarmente apprezzato nel caffè e nel latte macchiato. Il latte d'avena sembra versatile. Mi piace un buon latte macchiato, quindi ci proverò sicuramente. È affascinante quante alternative senza latticini siano disponibili. In effetti, la varietà è impressionante. È fantastico avere così tante opzioni per soddisfare le diverse preferenze ed esigenze dietetiche. Assolutamente. È una situazione vantaggiosa per tutti. Possiamo esplorare nuovi gusti accogliendo coloro che sono intolleranti al lattosio o seguono uno stile di vita vegano. Non potrei essere più d'accordo. È tutta una questione di inclusività e di ampliamento dei nostri orizzonti culinari. Ecco come scoprire e abbracciare alternative senza latticini. Lezione 2. Creare un ambiente sicuro e felice. Ciao Anna. Stavo pensando a mia sorella. Voglio solo che si senta al sicuro e felice nella sua nuova casa. Ciao John. È un sentimento adorabile. Creare un ambiente sicuro e felice è essenziale per il suo benessere. Quali misure possiamo intraprendere? Un'idea è assicurarsi che abbia uno spazio abitativo accogliente e confortevole. L'aggiunta di luci soffuse e tocchi personali può fare una grande differenza. È un ottimo inizio. Un'atmosfera calda e invitante la aiuterà a sentirsi a suo agio. Cos'altro possiamo fare per aumentare il suo senso di sicurezza? Possiamo installare misure di sicurezza come un sistema di allarme affidabile e robuste serrature su porte e finestre. È importante che si senta sicura. Assolutamente. Dare priorità alla sua sicurezza è fondamentale. Che mi dici del suo benessere emotivo? Come possiamo contribuire alla sua felicità? Possiamo creare una rete di supporto per lei presentandola a vicini amichevoli o invitandola a far parte di gruppi della comunità locale. È un'idea ponderata. Avere un senso di appartenenza e connessione la aiuterà a ambientarsi e a sentirsi più felice nel suo nuovo ambiente. Inoltre, possiamo incoraggiarla a esplorare gli hobby e le attività che le piacciono. Impegnarsi in cose che ama aumenterà la sua felicità. Questo è un ottimo suggerimento. Per seguire le sue passioni le porterà gioia e appagamento. È meraviglioso poter contribuire al suo benessere. Assolutamente. La sua felicità e sicurezza sono le massime priorità. Assicuriamoci che si senta sostenuta e amata nella sua nuova casa. Lezione 3. Scelta dei prodotti freschi. Ciao, Anna. Quando si tratta di acquistare frutta e verdura, do sempre priorità alla qualità e alla freschezza prima di raccoglierle. Ciao, John. Questo è un approccio intelligente. L'ispezione dei prodotti ci assicura di ottenere i migliori aromi e nutrienti. Come si determina la loro freschezza? Cerco segni come colori vivaci e texture compatte. La frutta e la verdura fresche devono risultare croccanti e vivaci, non appassite o ammaccate. Questo è un ottimo consiglio. È importante scegliere prodotti che abbiano un aspetto vivace e sano. Ci sono elementi specifici che controlli per ogni tipo? Sì, ad esempio, con le mele, mi assicuro che la buccia sia liscia e priva di imperfezioni. Per le verdure a foglia verde, controllo che le foglie siano croccanti e che non appassiscano. Capisco. Ogni tipo di prodotto può avere diversi indicatori di freschezza. Che mi dici dell'olfatto? È qualcosa che consideri anche tu? Assolutamente. Una frutta o verdura fresca dovrebbe avere un aroma gradevole. Se ha un cattivo odore o è ammuffito, probabilmente non è della sua migliore qualità. Questo è buono a sapersi. L'aroma può darci indizi sulla freschezza del prodotto. C'è altro a cui presti attenzione nella selezione dei prodotti? Controllo anche eventuali muffe o segni di decomposizione. È essenziale scegliere prodotti privi di deterioramento per garantire un gusto e una nutrizione ottimali. Questo è un punto cruciale. Vogliamo evitare di acquistare prodotti già deteriorati. Il tuo approccio ci aiuterà a fare scelte migliori. Sicuramente, ispezionando la frutta e la verdura prima dell'acquisto, possiamo assicurarci di ottenere la migliore qualità per i nostri pasti e spuntini. Lezione 4. Abbracciare la pace della natura Ciao Anna. Beh, sfruttiamo al massimo la giornata e facciamo una tranquilla passeggiata nella natura. Ciao John. Sembra un'idea meravigliosa. Le passeggiate nella natura possono essere così rigeneranti. Dove dovremmo andare a fare una passeggiata? Che ne dite del vicino parco con la sua vegetazione lussureggiante e i sentieri sereni? È il luogo perfetto per immergerci nella bellezza della natura. Sembra delizioso. Adoro essere circondato dal verde e sentire il cinguettio degli uccellini. È così rilassante e pacifico. Assolutamente sì, la natura ha un modo per calmare le nostre anime. Possiamo lasciarci alle spalle il trambusto della città e trovare tranquillità nel parco. Non potrei essere più d'accordo. È un'occasione per disconnetterci dagli schermi e immergerci nelle immagini, nei suoni e nei profumi del mondo naturale. Esattamente, una passeggiata nella natura ci permette di apprezzare le piccole meraviglie che ci circondano, come i delicati petali dei fiori o il dolce fruscio delle foglie. Sono quei piccoli dettagli che spesso passano inosservati nelle nostre vite frenetiche. E non dimentichiamo i benefici per la salute del camminare. È un ottimo modo per rimanere attivi e aumentare il nostro benessere generale mentre ci godiamo l'abbraccio della natura. Questo è vero. Camminare non fa bene solo alla nostra salute fisica ma anche al nostro benessere mentale ed emotivo. È una situazione vantaggiosa per tutti. Assolutamente sì. Una tranquilla passeggiata nella natura è un regalo che possiamo fare a noi stessi. Cogliamo l'occasione e crogioliamoci nella bellezza del mondo naturale. Lezione 5. Cura di sé con lunghe passeggiate Ciao Anna, ti stai prendendo cura di te? Una cosa che amo è fare una lunga passeggiata. Ciao John. È un ottimo modo per dare priorità alla cura di sé. Le lunghe passeggiate possono essere così utili. Dove vai di solito per le tue passeggiate? Mi piace esplorare diversi percorsi. A volte passeggio lungo la spiaggia e altre volte mi avventuro nella foresta vicina. La varietà lo rende interessante. Sembra meraviglioso. Essere circondati dalla natura mentre si cammina può essere sia rinfrescante che rigenerante. Quali altri vantaggi trovi nelle lunghe passeggiate? Le lunghe passeggiate mi aiutano a liberare la mente e a ridurre lo stress. Mi danno la possibilità di riflettere, rilassarmi e connettermi con me stesso a un livello più profondo. È fantastico! Camminare può essere una forma di meditazione che ci permette di essere presenti nel momento e trovare la pace interiore. Ci sono benefici fisici che notate? Sicuramente! Camminare è un esercizio a basso impatto che aiuta a migliorare la salute cardiovascolare, rafforzare i muscoli e aumentare la forma fisica generale. È un vantaggio per il corpo e la mente. È impressionante! Le lunghe passeggiate offrono un approccio olistico alla cura di sé. Hai scoperto gemme nascoste o luoghi preferiti durante le tue passeggiate? Sì, mi sono imbattuto in splendidi giardini, affascinanti caffè e punti panoramici. L'esplorazione di nuovi posti aggiunge un elemento di avventura alle mie passeggiate. Com'è emozionante! Scoprire nuovi luoghi può rendere ogni passeggiata un'esperienza unica. È importante mantenere le nostre routine di cura di sé interessanti e piacevoli. Assolutamente, la cura di sé non dovrebbe sembrare un lavoro ingrato. Si tratta di trovare attività che ci portino gioia e nutrano il nostro benessere. Le lunghe passeggiate fanno proprio questo per me. Sono completamente d'accordo. È essenziale dare priorità al nostro benessere e impegnarci in attività che ci ricarichino e ci riforniscano. Le lunghe passeggiate sono una scelta fantastica. In effetti, la cura di sé è un viaggio e ogni passo che facciamo verso il nostro benessere è importante. Allacciamoci le scarpe e intraprendiamo una passeggiata rinfrescante oggi. Lezione 6. Escursioni per panorami mozzafiato Ciao Anna, che ne dici di fare un'escursione e goderci i panorami mozzafiato? Ciao John. Sembra un'idea fantastica. L'escursionismo ci permette di entrare in contatto con la natura e ammirare paesaggi mozzafiato. Dove dobbiamo andare? Esploriamo i vicini sentieri di montagna. Offrono viste panoramiche sulla valle e sulle cime circostanti. È davvero impressionante. Sembra incredibile. Le escursioni in salita non solo ci metteranno alla prova fisicamente, ma ci ricompenseranno anche con panorami magnifici. Cosa dobbiamo portare? Dovremmo mettere in valigia cose essenziali come acqua, snack, crema solare e scarpe comode. È importante rimanere idratati e protetti durante l'escursione. Sicuramente, essere preparati è fondamentale. Porterò anche una macchina fotografica per immortalare la bellezza che incontriamo lungo la strada. Quali altri vantaggi offre l'escursionismo? L'escursionismo è un ottimo modo per migliorare la forma cardiovascolare e rafforzare i muscoli. Fornisce inoltre chiarezza mentale e un senso di realizzazione. Meraviglioso! L'escursionismo giova davvero sia al nostro corpo che alla nostra mente. Non vedo l'ora di immergermi nella natura e vivere la serenità delle montagne. La natura ha un modo per ringiovanirci. La tranquillità e l'imponenza delle montagne ci lasceranno a bocca aperta e ci daranno un senso di tranquillità. Lo credo anch'io. Disconnetterci dalla città e immergerci nel mondo naturale ci permette di trovare l'equilibrio e ricaricare il nostro spirito. Assolutamente sì, le viste mozzafiato serviranno a ricordare la bellezza che ci circonda e l'importanza di dedicare del tempo per apprezzarla. Non potrei essere più d'accordo. Intraprendiamo questa avventura escursionistica con il cuore aperto, la mente aperta e un profondo apprezzamento per le meraviglie della natura. Allacciamoci le scarpe da trekking e lasciamo che le montagne siano la nostra guida. Sono entusiasta di condividere questa esperienza con voi e creare ricordi duraturi. Lezione 7. Mostrare la personalità attraverso l'arrangiamento Ciao Anna, stavo pensando a come possiamo mostrare la nostra personalità disponendo gli oggetti con cura. Ciao John. È un'idea interessante. Il modo in cui sistemiamo i nostri effetti personali può riflettere il nostro stile e le nostre preferenze uniche. Come suggeriresti di iniziare? Cominciamo con una libreria. Possiamo organizzare libri, oggetti decorativi e ricordi personali in modo da raccontare una storia su chi siamo. Sembra intrigante. Organizzando libri in base a generi o temi, possiamo mostrare i nostri interessi e dare un'occhiata ai nostri gusti letterari. Esattamente. L'aggiunta di tocchi personali come foto incorniciate, souvenir di viaggio o oggetti artigianali fatti a mano può personalizzare ulteriormente la composizione. Adoro quell'idea. Includere oggetti che hanno un valore sentimentale o che ci ricordano esperienze significative infonderà calore e carattere nel nostro spazio. Precisamente. Si tratta di curare una rappresentazione visiva del nostro viaggio e delle cose che contano per noi. Puoi innescare conversazioni e connessioni. Sono completamente d'accordo. Disposizioni ponderate possono servire a riflettere la nostra identità, invitando gli altri a saperne di più su di noi e promuovere un senso di connessione. È affascinante come la disposizione degli oggetti possa creare un'atmosfera accogliente e rivelare una parte della nostra storia senza dire una parola. Assolutamente. È come una forma d'arte che ci permette di esprimerci e di far sentire i nostri spazi abitativi unicamente nostri. Su quali altre aree possiamo concentrarci? Possiamo anche considerare di organizzare il nostro spazio di lavoro o persino il nostro guardaroba per mostrare la nostra personalità. Si tratta di trovare modi creativi per lasciare il segno. Sembra intrigante. Organizzando il nostro spazio di lavoro in modo da ispirare la produttività e riflettere il nostro stile, possiamo creare un ambiente che ci fa sentire davvero nostri. E con il nostro guardaroba, possiamo sperimentare diverse combinazioni, colori e accessori per esprimere il nostro personale senso della moda e mostrare la nostra individualità. Adoro l'idea di usare l'arrangiamento come mezzo di autoespressione in molteplici aspetti della nostra vita. Aggiunge profondità e carattere a ciò che ci circonda ogni giorno. Assolutamente. È un modo per infondere il nostro tocco personale negli spazi che abitiamo e farli riflettere veramente chi siamo. Diamo sfogo alla creatività e iniziamo a organizzare. Lezione 8. Affrontare i problemi con l'auto Ciao Anna, hai mai avuto altri problemi con la macchina? Bene, una volta ho chiuso per sbaglio le mie chiavi all'interno dell'auto. Ciao John. Oh no, deve essere stato frustrante. Non ho avuto quel problema specifico, ma ho avuto una buona dose di problemi con la macchina in passato. È stato sicuramente un inconveniente. Quali altri problemi con l'auto hai riscontrato e come li hai gestiti? Ho già avuto una gomma sgonfia durante un viaggio. Per fortuna, avevo una ruota di scorta e gli strumenti necessari per cambiarla. È stata una lezione preziosa per prepararsi. Le gomme sgonfie possono essere piuttosto inaspettate. È fantastico che tu sia riuscito a gestirlo da solo. Hai affrontato altre sfide con la tua auto? Sì, in un'altra occasione, la batteria della mia auto si è esaurita. Fortunatamente, un gentile sconosciuto si è offerto di farmi ripartire con dei cavi jumper e sono riuscito a farlo funzionare di nuovo. Questa è una fortuna. È sempre utile quando qualcuno dà una mano in queste situazioni. Come hai espresso la tua gratitudine allo sconosciuto? Ho ringraziato generosamente la persona e mi sono offerto di comprarle un caffè in segno di apprezzamento. È importante mostrare gratitudine per gli atti di gentilezza. Assolutamente sì, esprimere gratitudine è un gesto semplice ma potente. È bello riconoscere l'aiuto che riceviamo, soprattutto dagli estranei. Sicuramente. Ripristina la nostra fede nell'umanità e rafforza il legame che condividiamo come compagni di viaggio in questo viaggio della vita. Non potrei essere più d'accordo. Sono queste sfide inaspettate e questi atti di gentilezza che ci ricordano la nostra umanità condivisa e l'importanza di aiutarci l'un l'altro. Assolutamente sì, i problemi con l'auto possono essere stressanti, ma offrono anche opportunità di crescita, resilienza e connessione umana. Questa è un'ottima prospettiva. È importante mantenere la calma, essere intraprendenti e accettare l'aiuto che ci viene fornito quando affrontiamo i problemi con l'auto. In effetti, fa tutto parte dell'avventura. Speriamo che i nostri futuri viaggi in auto siano fluidi e senza problemi, ma se così non fosse, li gestiremo con grazia. Assolutamente sì, e saremo sempre grati per la gentilezza degli estranei che ci danno una mano. Preparati a pedalate tranquille e ad avventure memorabili. Lezione 9. Un picnic nel parco. Ciao Anna, che ne dici di andare a fare un picnic al parco? Sembra fantastico, vero? Ciao John. Assolutamente. Un picnic sembra un'idea meravigliosa. Quale parco mi consigliate per la nostra gita? Beh, ho sentito parlare molto bene di Riverside Park. È noto per i suoi splendidi paesaggi, gli ampi prati e le viste sul fiume. Sembra adorabile. Avevo intenzione di visitare Riverside Park. Quali altri parchi, pensi, siano adatti per un picnic? Central Park è sempre una scelta classica. Offre una varietà di luoghi pittoreschi, dall'iconica Bethesda Terrace al tranquillo Ship Meadow. Central Park sembra iconico. Posso immaginare l'atmosfera vivace e la possibilità di osservare la gente mentre ci godiamo il nostro picnic? Esattamente. È il luogo ideale per piacevoli passeggiate, gite in bicicletta e persino per noleggiare barche. Potremmo ricavarne un'intera giornata. Sembra una giornata perfetta. Quali altri parchi dovremmo prendere in considerazione? Qualche gemma nascosta che conosci? Prospect Park a Brooklyn è un altro gioiello. È progettato dagli stessi architetti che hanno creato Central Park e offre un'atmosfera più serena e rilassata. Oh, ho sentito parlare di Prospect Park ma non ho ancora avuto modo di esplorarlo. Sarebbe una grande opportunità per scoprire una nuova parte della città. Sicuramente. Prospect Park ha un bellissimo lago, aree picnic e persino uno zoo. È un paradiso per gli amanti della natura. Sono entusiasta di esplorare tutti questi parchi. È incredibile come la natura possa offrire una fuga pacifica in una città frenetica. Assolutamente. I parchi offrono la possibilità di rilassarsi, entrare in contatto con la natura e trascorrere del tempo di qualità con gli amici. Cos'altro dovremmo portare per il nostro picnic? Dovremmo mettere in valigia una coperta accogliente, degli snack deliziosi, delle bevande rinfrescanti e magari anche un frisbee o una palla per qualche gioco all'aperto. Ottimi suggerimenti. Si tratta di creare un'esperienza rilassata e piacevole. Non vedo l'ora di fare il nostro picnic nel parco. Anch'io. Sarà una meravigliosa opportunità per crogiolarsi nella bellezza della natura, assaporare del buon cibo e creare ricordi duraturi insieme. Effettivamente. La natura ha un modo per ringiovanire il nostro spirito e avvicinarci. Sfruttiamo al massimo il nostro picnic nel parco. Lezione 10. Dare priorità al benessere degli animali domestici. Ciao Anna. Sono contenta che entrambi diamo priorità al benessere dei nostri animali domestici nelle nostre case. Ciao John. Assolutamente sì. I nostri amici pelosi portano tanta gioia nella nostra vita. È importante assicurarsi che siano felici e in salute. Sicuramente. Quali sono alcuni modi per garantire il benessere del tuo animale domestico su base giornaliera? Bene. Mi assicuro di fornire una dieta equilibrata con cibo nutriente e acqua fresca. L'esercizio fisico regolare e il tempo libero sono essenziali anche per la loro stimolazione fisica e mentale. È fantastico. Sono d'accordo. Una dieta sana e un regolare esercizio fisico sono fondamentali per mantenere i nostri animali domestici in buona forma. Hai altri consigli? Sì, le visite regolari dal veterinario per controlli e vaccinazioni sono fondamentali. La cura e il mantenimento della loro igiene sono importanti anche per il loro benessere generale. Assolutamente. L'assistenza veterinaria regolare aiuta a identificare tempestivamente eventuali problemi di salute. È anche importante creare un ambiente sicuro e confortevole per i nostri animali domestici. Assolutamente. Fornire un letto comodo, giocattoli e uno spazio designato in cui possano sentirsi sicuri e rilassati è essenziale per la loro felicità. Non potrei essere più d'accordo. I nostri animali domestici meritano un ambiente privo di stress in cui possano sentirsi amati e a proprio agio. Cos'altro fate per garantire il loro benessere? Bene, mi assicuro anche di trascorrere del tempo di qualità con il mio animale domestico, prestando loro attenzione, amore e affetto. Rafforza il nostro legame e promuove il loro benessere emotivo. Meraviglioso. Gli animali domestici prosperano grazie all'amore e alla compagnia. È importante inondarli di affetto e farli sentire membri stimati delle nostre famiglie. Assolutamente. I nostri animali domestici portano così tanto amore e felicità nelle nostre vite, ed è nostra responsabilità ricambiare quell'amore e quella cura. Effettivamente. Ci danno amore incondizionato ed è nostro dovere fornire loro un ambiente sicuro e nutriente. I nostri animali domestici arricchiscono davvero la nostra vita. Lo fanno davvero. È commovente vedere come diventano parte integrante delle nostre famiglie, portandoci gioia e compagnia ogni giorno. Assolutamente. Continuiamo a dare priorità al loro benessere e ad apprezzare i momenti speciali che condividiamo con i nostri amati animali domestici. Lezione 11. Viste accattivanti Ciao Anna. Hai mai visitato la Skyview Tower? Ho sentito che offre panorami mozzafiato. Ciao John. Oh, ne ho sentito parlare. Cosa rende i panorami dalla Skyview Tower così speciali? Bene, la torre si trova nel cuore della città e offre viste panoramiche sullo skyline, sul fiume e persino sulle montagne lontane. Sembra incredibile. Adoro poter vedere la città da una prospettiva diversa. Ci sono altri luoghi con viste affascinanti? Assolutamente. L'Hilltop Observatory è un altro luogo popolare. È situato sulla cima di una collina e offre una vista mozzafiato sull'intero paesaggio urbano. Un osservatorio in cima a una collina sembra incantevole. Posso immaginare la bellezza di guardare le luci della città brillare da un tale punto di vista. È davvero uno spettacolo magico, soprattutto di sera quando la città si anima di luci scintillanti. Quali altre vedute ti vengono in mente? Il Cliffside Park è noto per le sue viste mozzafiato sulla costa. Puoi vedere il vasto oceano che si estende a perdita d'occhio. Ah, il Cliffside Park sembra il posto perfetto per ammirare la potenza e la bellezza dell'oceano. Deve essere impressionante. Assolutamente. C'è qualcosa di così rilassante e umiliante nel guardare la vastità dell'oceano. Ci sono gemme nascoste? Beh, il Giardino Segreto è un posto meno conosciuto con viste mozzafiato. È un'oasi nascosta all'interno della città, che offre tranquillità e vegetazione lussureggiante. Un Giardino Segreto con splendide viste sembra un paradiso nascosto. Adoro scoprire gemme nascoste del genere. Qualche altro suggerimento? Il Rooftop Lounge è un locale alla moda con un'atmosfera chic. Offre una vista a volo d'uccello della città, rendendolo perfetto per una serata fuori. Una lounge panoramica con vista sembra fantastica. È un ottimo modo per godersi lo skyline della città mentre si socializza con gli amici. Qualche consiglio finale? Il lungomare è una tappa obbligata. Si estende lungo il fiume e offre un rifugio tranquillo con viste mozzafiato sull'acqua e sul paesaggio circostante. Una passeggiata sul lungomare sembra deliziosa. Deve essere rinfrescante e fare una piacevole passeggiata mentre ci si gode le rilassanti vedute del fiume. Grazie per i consigli. Siete i benvenuti. Esplorare panorami affascinanti è sempre un piacere. È incredibile come diverse prospettive possano farci apprezzare ancora di più la bellezza che ci circonda. Assolutamente. È un promemoria di quanto possa essere diverso e maestoso il nostro mondo. Continuiamo a cercare insieme questi panorami mozzafiato. Sicuramente. Abbracciamo la bellezza che ci circonda e creiamo ricordi duraturi mentre ammiriamo panorami mozzafiato. Ecco panorami indimenticabili. Lezione 12. Assistenza aeroportuale. Ciao Anna. Hai notato quanto sia disponibile il personale dell'aeroporto ovunque? È un servizio eccellente. Ciao John. Assolutamente sì. Il personale dell'aeroporto svolge un ruolo cruciale nel garantire un'esperienza di viaggio senza intoppi. Avevi bisogno di cambiare la tua valuta? Sì, l'ho fatto. Il personale dello sportello di cambio è stato molto efficiente e ha fornito un tasso di cambio competitivo. È bello sentirlo. È importante disporre di servizi di cambio valuta affidabili negli aeroporti. Hai avuto altre interazioni con il personale disponibile? Sicuramente. Quando ho avuto difficoltà a trovare il mio cancello, un membro del personale mi ha dato indicazioni chiare e si è persino offerto di accompagnarmi lì. Meraviglioso. Il personale dell'aeroporto è sempre pronto ad assistere i passeggeri, assicurando che raggiungano le loro destinazioni senza alcun inconveniente. Assolutamente. La loro dedizione e attenzione rendono la navigazione in aeroporto molto più semplice. Hai avuto incontri degni di nota? Sì, quando ho perso la carta d'imbarco, un membro del personale dell'ufficio informazioni mi ha aiutato rapidamente a recuperarne una nuova, salvandomi da una situazione stressante. È rassicurante sapere che ci sono sempre membri del personale competenti disponibili ad assistere in caso di problemi che possono sorgere. Assolutamente. La loro esperienza e disponibilità a contribuire a creare un'esperienza di viaggio positiva per tutti. Hai incontrato barriere linguistiche? Sorprendentemente no. Il personale dell'aeroporto con cui ho interagito era multilingue e in grado di comunicare efficacemente in inglese e in altre lingue. È impressionante. Le barriere linguistiche possono spesso essere difficili, ma la capacità di comunicare in più lingue garantisce un'esperienza senza interruzioni per i passeggeri. Effettivamente. È una testimonianza della professionalità e della dedizione del personale aeroportuale. Hai notato altri servizi utili? Sì, il personale dell'area ritiro bagagli è stato efficiente e ha aiutato i passeggeri a localizzare i bagagli. Ha consentito di risparmiare molto tempo e fatica. È un sollievo. L'ultima cosa che si desidera è avere difficoltà a recuperare i bagagli dopo un lungo viaggio. Il personale disponibile fa una grande differenza. Assolutamente. La loro assistenza e attenzione ai dettagli contribuiscono a un'esperienza di viaggio complessiva positiva. È confortante sapere che sono lì per aiutare. Sicuramente. La presenza di personale aeroportuale disponibile crea un senso di affidabilità e garantisce una transizione graduale tra le destinazioni. È un promemoria di come il lavoro di squadra e l'eccellente servizio clienti possano migliorare l'esperienza di viaggio complessiva. Apprezziamo gli sforzi di queste persone dedicate. Assolutamente. Esprimiamo la nostra gratitudine al personale dell'aeroporto per il servizio e la professionalità eccezionali. Brindiamo alla disponibilità dell'assistenza aeroportuale. Lezione 13. Ritardi culinari. Ciao Anna. Finalmente il nostro cibo è arrivato. Spero che l'attesa sia valsa la pena. Ciao John. Mi scuso nuovamente per l'inconveniente causato dal ritardo. Spero che il cibo compensi. Non c'è da preoccuparsi. Capisco che a volte si verifichino ritardi imprevisti. Proviamo e vediamo se è valsa la pena aspettare. Assolutamente. Non vedo l'ora di assaggiare i sapori e vedere cosa rende questo posto speciale. Scaveremo a fondo. Sicuramente. Assaporiamo ogni boccone e apprezziamo l'esperienza culinaria. Oh, questo piatto sembra delizioso. Cosa ne pensi? Sembra appetitoso. La presentazione è impeccabile. Prendiamoci un momento per apprezzare l'attenzione dello chef per i dettagli. Concordato. I colori e la disposizione degli ingredienti sono visivamente accattivanti. Ora vediamo che sapore ha. Mmm, i sapori sono incredibili. Sono felice di sentirlo. La combinazione di spezie e ingredienti crea una perfetta armonia di gusto. Questa è davvero una delizia culinaria. Assolutamente. I sapori sono ben bilanciati e ogni boccone è un'esplosione di prelibatezza. Sono contenta che abbiamo deciso di provare questo posto nonostante il ritardo. Anch'io. A volte vale la pena aspettare le cose migliori. È un promemoria per essere pazienti e aperti a nuove esperienze. Qual è il tuo piatto preferito finora? È difficile scegliere, ma la pasta ai frutti di mare è eccezionale. La freschezza dei frutti di mare unita alla salsa saporita è semplicemente divina. Sembra delizioso. Sono contento che ci siamo avventurati a provare i loro piatti a base di pesce. È sempre un piacere assaporare i sapori dell'oceano. Assolutamente. Esplorare diverse cucine ci permette di scoprire sapori nuovi ed entusiasmanti. Sono grato per questo viaggio culinario. Allo stesso modo. È un promemoria di come il cibo possa essere una porta d'accesso a culture diverse e una fonte di divertimento. Hai provato il loro dessert? Non ancora, ma ho sentito parlare benissimo del loro dessert d'autore. Concediamoci qualcosa di dolce per concludere il nostro pasto? Sicuramente. Soddisfiamo la nostra golosità e concludiamo questa avventura culinaria in bellezza. Spero che il dessert sia all'altezza delle nostre aspettative. Sono sicuro che lo farà. Vista la qualità dei loro piatti finora, ho grandi speranze per il dessert. Ah, eccola. Sembra divino. In effetti, la presentazione è squisita. Ora vediamo se ha un sapore buono come sembra. MMM è assolutamente paradisiaco. Non potrei essere più d'accordo. La combinazione di sapori e consistenze in questo dessert è il finale perfetto per il nostro pasto. Che esperienza culinaria! Assolutamente. Nonostante il ritardo iniziale, il cibo e l'esperienza complessiva hanno superato le mie aspettative. Sono contento che non ci siamo lasciati scoraggiare. Anch'io. È un promemoria per mantenere sempre una mente aperta e abbracciare nuove avventure culinarie. Brindiamo alla gioia di scoprire sapori deliziosi. Lezione 14. Barrette di muesli fatte in casa. Ciao Anna. Hai provato le loro barrette di muesli fatte in casa? Sono gustose e nutrienti. Ciao John. No, non l'ho fatto. Sono sempre alla ricerca di snack salutari. Dimmi di più su queste barrette di muesli. Sono fatti con ingredienti genuini come avena, noci, semi e frutta secca. Sono un perfetto equilibrio di sapori e consistenze. Sembra fantastico. Adoro gli snack che apportano gusto e nutrimento. Li proverò sicuramente. Sono facili da realizzare. Assolutamente. La ricetta è semplice e richiede una preparazione minima. Puoi anche personalizzare facilmente gli ingredienti in base alle tue preferenze. È bello saperlo. Mi piace sperimentare ricette e aggiungere il mio tocco personale. Hai qualche consiglio per le combinazioni di sapori? Sicuramente. Una delle mie preferite è una combinazione di mandorle, mirtilli rossi e cioccolato fondente. Fornisce una deliziosa miscela di dolcezza e ricchezza. Sembra delizioso. Proverò prima quella combinazione. Ci sono passaggi o tecniche specifici da tenere a mente durante la preparazione di queste barrette di muesli? Un passaggio importante è assicurarsi che la miscela sia ben combinata e sufficientemente appiccicosa da rimanere unita. Puoi usare miele o burro di noci come eleganti. Buono a sapersi, mi assicurerò di raggiungere la giusta consistenza. Quanto tempo devono aspettare prima che siano pronti per essere gustati? Di solito ci vogliono un paio d'ore prima che le barrette di muesli si solidifichino. Puoi metterli in frigorifero per accelerare il processo se hai fretta. La pazienza sarà fondamentale. Mi assicurerò di pianificare in anticipo e di concedere tempo sufficiente affinché si impostino correttamente. Possono essere conservati a lungo. Sì, possono essere conservati in un contenitore ermetico per un massimo di due settimane. Sono un comodo spuntino da asporto per le giornate impegnative. Questo è perfetto. È sempre bello avere una serie di snack fatti in casa per una rapida sferzata di energia. Non vedo l'ora di provarli. Sono sicuro che ti piaceranno. Non sono solo deliziosi, ma anche un'alternativa più salutare agli snack acquistati in negozio. Fammi sapere come vanno a finire. Assolutamente. Mi assicurerò di condividere il mio feedback con te. Grazie per avermi fatto conoscere queste barrette di muesli fatte in casa. Siete i benvenuti. Sono lieto di poter condividere con voi questa idea gustosa e nutriente per uno snack. Alla bontà fatta in casa e alla buona merenda. Lezione 15. Accordo completo. Ciao Anna. Condivido la stessa convinzione. Assicuriamoci di coprire tutti questi punti nel nostro accordo. Ciao John. Assolutamente. L'attenzione ai dettagli è fondamentale per garantire un accordo completo. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Esattamente. Esaminiamo ogni punto in modo sistematico per garantire chiarezza ed evitare potenziali malintesi. Concordato. Il primo punto che dobbiamo affrontare è la tempistica. È essenziale stabilire scadenze chiare per ogni attività o risultato finale. Sì, fissare scadenze realistiche ci aiuterà a rimanere in pista e a garantire il completamento tempestivo del progetto. Successivamente, dovremmo definire l'ambito del lavoro. Assolutamente. È importante delineare i compiti e le responsabilità specifici di ciascuna parte per evitare confusione o sovrapposizioni. Precisamente. Definire con chiarezza l'ambito di applicazione assicurerà che tutti conoscano il proprio ruolo e cosa ci si aspetta da loro. Parliamo anche del budget. Sì, stabilire un budget dettagliato è fondamentale per la pianificazione finanziaria. Dobbiamo allocare le risorse in modo appropriato e monitorare le spese. Assolutamente. Un budget ben pianificato ci aiuterà a gestire i costi in modo efficace e a prevenire eventuali contraccolpi finanziari. Quindi, parliamo di comunicazione. La comunicazione è fondamentale per una collaborazione di successo. Dovremmo determinare i canali e la frequenza di comunicazione preferiti. Effettivamente. Una comunicazione regolare e aperta ci consentirà di risolvere tempestivamente qualsiasi problema e di tenere tutti informati. Non dimentichiamo la gestione del rischio. Hai ragione. Identificare i rischi potenziali e sviluppare strategie di mitigazione è essenziale per ridurre al minimo qualsiasi impatto negativo sul progetto. Assolutamente. Essere proattivi nella gestione del rischio ci aiuterà ad affrontare le sfide in modo efficace. Infine, dovremmo discutere della clausola risolutiva. Sì, è importante includere una clausola risolutiva chiara che delinei le condizioni in base alle quali il contratto può essere risolto. Precisamente. La presenza di una clausola risolutiva proteggerà gli interessi di entrambe le parti e fornirà un processo chiaro per porre fine all'accordo, se necessario. Concordato. Coprendo tutti questi punti, possiamo garantire un accordo completo che affronti tutti gli aspetti della nostra collaborazione. Assolutamente. L'attenzione ai dettagli e la completezza porteranno a una partnership più forte e a risultati positivi. Concludiamo l'accordo tenendo conto di queste considerazioni. Lezione 16. La sicurezza prima di tutto. Ciao Anna, c'è qualcosa di importante che dobbiamo affrontare. Per sicurezza, ti dispiace occupartene? Ciao John, ovviamente. La sicurezza è una priorità assoluta. Per favore fatemi sapere cosa è necessario fare e lo gestirò in modo responsabile. Apprezzo la tua disponibilità. Dobbiamo assicurarci che tutte le prese elettriche della casa siano adeguatamente coperte. Questa è una misura di sicurezza fondamentale. Mi assicurerò di procurarmi i coperchi delle prese e di installarli in ogni stanza per evitare incidenti. Ottimo. È essenziale creare un ambiente sicuro, soprattutto se ci sono bambini o animali domestici in giro. Grazie per essertene occupato. Assolutamente. La sicurezza non dovrebbe mai essere compromessa. Condivido la stessa convinzione. Assicuriamoci di coprire tutti questi punti nel nostro accordo. Sembra un piano. Nel nostro accordo dovremmo delineare i protocolli di sicurezza, i contatti di emergenza e tutte le precauzioni necessarie. Concordato. È importante avere tutto documentato per garantire chiarezza e responsabilità. La sicurezza non dovrebbe mai essere presa alla leggera. Assolutamente. Affrontando i potenziali rischi e implementando misure di sicurezza, possiamo creare uno spazio abitativo sicuro e confortevole. Questo è l'obiettivo. Vogliamo che tutti si sentano sicuri e protetti nella nostra casa. È una responsabilità che non dobbiamo trascurare. Non potrei essere più d'accordo. La sicurezza è uno sforzo collettivo e spetta a ciascuno di noi contribuire a un ambiente sicuro. Grazie per il tuo impegno. Lezione 17. Elementi essenziali per un viaggio in auto. Ciao, Anna. Stavo pensando di prepararmi per il nostro prossimo viaggio in auto. Hai qualche suggerimento per gli oggetti essenziali che dovremmo portare con noi? Ciao, John. Assolutamente. È importante essere preparati. Innanzitutto, dovremmo assicurarci di avere una mappa o un sistema di navigazione affidabili. Sicuramente, perdersi è l'ultima cosa che vogliamo. Una mappa o un GPS ci aiuteranno a rimanere in pista e a raggiungere le nostre destinazioni senza intoppi. Assolutamente. Un altro elemento essenziale è un kit di emergenza stradale, che include articoli come una ruota di scorta, cavi di collegamento e una torcia elettrica. Buona idea. Essere preparati a situazioni inaspettate ci darà tranquillità. Dovremmo anche mettere in valigia degli snack e dell'acqua. Assolutamente sì. Mangiare snack e acqua ci manterrà energizzati e idratati per tutto il viaggio. Non dimenticare un refrigeratore per articoli deperibili. Bene, rimanere nutriti e idratati è essenziale per un viaggio confortevole. Dovremmo portare anche un kit di pronto soccorso per eventuali lesioni lievi. Assolutamente. Un kit di pronto soccorso è un must. È meglio essere preparati per eventuali piccoli incidenti o lesioni che potrebbero verificarsi lungo il percorso. Sono completamente d'accordo. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità. Dovremmo anche includere alcune opzioni di intrattenimento, come libri o giochi. Sicuramente, divertirci renderà il viaggio più piacevole. Possiamo anche creare una playlist delle nostre canzoni preferite. Ottimo suggerimento. La musica aumenterà il divertimento e creerà un'atmosfera vivace. Infine, dovremmo mettere in valigia qualche soldo extra e un caricabatterie per il telefono. Questo è importante. Il denaro extra sarà utile per spese impreviste e un caricabatterie del telefono assicurerà che i nostri dispositivi rimangano alimentati. Assolutamente sì, avere un telefono completamente carico è fondamentale per la navigazione e le emergenze. Con questi elementi essenziali, saremo ben preparati per il nostro viaggio in auto. Effettivamente. Essere preparati renderà il viaggio più agevole e piacevole. Sono entusiasta della nostra prossima avventura. Anch'io. Raccogliamo tutti gli elementi essenziali e rendiamo questo viaggio indimenticabile. Non vedo l'ora di partire con te. Lezione 18. Posto serale perfetto. Ciao Anna. Hai trovato il posto perfetto per i nostri programmi serali? Ciao John. Ho esplorato diversi posti e c'è sicuramente un posto che sembra perfetto per la nostra gita serale. È fantastico. Sono entusiasta di sentirlo. Cosa rende questo posto così speciale? Beh, si trova vicino a un lago tranquillo circondato da una vegetazione lussureggiante. Lo scenario è mozzafiato, soprattutto di sera. Sembra assolutamente incantevole. Stare vicino alla natura e godere di un'atmosfera serena è perfetto per una serata rilassante. Esattamente. Possiamo fare un picnic in riva al lago, guardare il tramonto e persino fare una piacevole passeggiata lungo il sentiero in riva al lago. Sembra un piano meraviglioso. Mi piace l'idea di trascorrere del tempo di qualità all'aperto, godendomi la bellezza della natura. E la parte migliore è che c'è un piccolo caffè nelle vicinanze dove possiamo prendere deliziosi snack e bevande. Oh, è un'aggiunta deliziosa. Mangiare delle prelibatezze mentre ci si gode il panorama renderà la serata ancora più memorabile. Assolutamente. Possiamo sederci in riva al lago, sorseggiando i nostri drink e semplicemente rilassandoci dal trambusto della giornata. Sembra il modo perfetto per ricaricarsi e ritrovare la tranquillità. Non vedo l'ora che arrivi questa sera. Anch'io. È importante vivere momenti come questi per apprezzare la bellezza che ci circonda e godere della reciproca compagnia. Non potrei essere più d'accordo. Assicuriamoci di portare una coperta e magari anche una macchina fotografica per immortalare i momenti magici. È un'ottima idea. Possiamo rilassarci sulla coperta, immortalare il tramonto e creare ricordi duraturi insieme. Assolutamente. Ti sono grato per il tuo suggerimento. Questa sera sarà davvero speciale. Ciao Anna. Mi chiedevo, qual è il tuo genere musicale preferito da suonare? Ehi! Mi piacciono il rock e il blues, ma mi piace anche esplorare altri generi come il jazz e il folk. E tu? Che figata! In realtà sono un fan dell'hip hop e dell'R&B. Adoro l'energia e il ritmo che portano in tavola. Oh, questo è interessante. L'hip hop e l'R&B hanno la loro atmosfera unica. Cosa ti attira verso quel genere? Mi piacciono i ritmi orecchiabili e l'aspetto narrativo dei testi. È un genere che affronta spesso questioni sociali ed esperienze personali. Capisco perché questo potrebbe risuonare in te. La musica ha un modo di connettersi con le nostre emozioni ed esperienze. Assolutamente. La musica ha il potere di suscitare forti emozioni e creare un senso di unità tra gli ascoltatori. È così vero. È affascinante come generi diversi possano evocare stati d'animo diversi e trasportarci in luoghi diversi. Sicuramente. La musica ha la capacità di sollevare il nostro spirito, aiutarci a rilassarci o persino ispirarci ad agire. Sono completamente d'accordo. È come un linguaggio universale che trascende le barriere e unisce le persone. Assolutamente. È incredibile come la musica possa collegare culture e toccare il cuore di persone di ogni ceto sociale. Lo è davvero. Ecco perché amo esplorare generi diversi e scoprire nuovi artisti. Allarga il mio orizzonte musicale. Mi sento allo stesso modo. È sempre emozionante imbattersi in nuove canzoni che mi colpiscono e ampliano la mia gamma musicale. È come intraprendere un viaggio musicale con infinite possibilità. Dovremmo condividere alcune delle nostre canzoni e dei nostri artisti preferiti qualche volta. Sembra un'idea fantastica. Mi piacerebbe scambiarmi consigli ed esplorare nuova musica insieme. Ottimo. La musica unisce le persone e sono sicuro che i nostri viaggi musicali saranno pieni di deliziose sorprese. Non potrei essere più d'accordo. Manteniamo vivo il ritmo e continuiamo a goderci la magia della musica nelle nostre vite. Lezione 20. Decorare l'emozione. Ciao Anna. Mi sono appena trasferita in un posto nuovo e sono entusiasta di decorarlo. Che ne dici di te? Ehi! È meraviglioso! Hai ragione! Anch'io sono entusiasta di decorare un nuovo spazio. È sempre divertente farlo sentire come a casa. Assolutamente. Il processo di personalizzazione del nostro spazio abitativo aggiunge un tocco del nostro stile e lo rende più invitante. Sono completamente d'accordo. È un'opportunità per creare uno spazio che rifletta la nostra personalità e ci porti gioia. Sicuramente. Sto pensando di iniziare dal soggiorno. Qualche suggerimento su come renderlo intimo e accogliente? Un'idea è quella di aggiungere delle sedute morbide e confortevoli, come un morbido divano o comode poltrone. Crea un'atmosfera rilassante. Sembra perfetto. Voglio che i miei ospiti si sentano a proprio agio e a proprio agio quando vengono a trovarli. Che dire dei colori e delle decorazioni? Bene, colori caldi e neutri come il beige o il grigio chiaro possono creare un'atmosfera accogliente. L'aggiunta di cuscini decorativi e opere d'arte può dare un tocco di colore e un tocco personale. Mi piace l'idea. È incredibile come i piccoli dettagli possano fare una grande differenza nell'atmosfera generale della stanza. Effettivamente. Non dimenticare l'illuminazione. L'illuminazione morbida e calda, come le lampade da tavolo o le luci a corda, può aggiungere un'atmosfera accogliente e intima. Buon punto. L'illuminazione crea l'atmosfera e crea un'atmosfera confortevole. Lo terrò sicuramente a mente. Ottimo. Ora passiamo alla camera da letto. È uno spazio in cui possiamo rilassarci e ricaricarci. Quali sono i tuoi pensieri al riguardo? Voglio che la mia camera sia un rifugio di pace. Penso che un materasso comodo, tende oscuranti e lenzuola morbide siano essenziali. Assolutamente. Un ambiente ordinato può anche contribuire a creare un'atmosfera calma e riposante. Prendi in considerazione soluzioni di archiviazione per mantenere le cose organizzate. È un'ottima idea. Avere uno spazio ordinato favorisce un senso di serenità e aiuta a liberare la mente prima di dormire. Esattamente. Infine, non dimenticare di aggiungere alcuni tocchi personali come foto di famiglia o opere d'arte che ti rendano felice quando ti svegli. Adoro quell'idea. Svegliarmi con i ricordi di momenti felici inizierà la mia giornata con una nota positiva. Grazie per il suggerimento. Lezione 21. Affrontare lo stress legato al lavoro Ciao Anna. Il lavoro è stato travolgente ultimamente. Qualche consiglio su come affrontare lo stress legato al lavoro? Ciao John. Posso sicuramente aiutare. Per prima cosa, prova a dare priorità alle tue attività e a suddividerle in parti gestibili. Sembra una buona strategia. Concentrandomi su un compito alla volta, posso evitare di sentirmi sopraffatto dal carico di lavoro. Esattamente. Aiuta a creare una lista di cose da fare e ad affrontare prima le attività più importanti o urgenti. Ti dà un senso di realizzazione e riduce lo stress. Ci proverò. A volte mi sembra che tutto debba essere fatto in una volta, ma organizzare le mie attività dovrebbe portare un po' di chiarezza. Sicuramente lo farà. Un'altra tecnica utile è fare brevi pause durante il giorno. Allontanati dalla scrivania e intraprendi una rapida attività fisica o esercizio di rilassamento. Sembra rinfrescante. Fare delle pause non solo ricaricherà la mia energia, ma fornirà anche una pausa mentale dalle pressioni legate al lavoro. Assolutamente. È importante concedersi il tempo di riposare e ricaricarsi. Tornerai alle tue attività con una mente più lucida e una maggiore produttività. Capisco quanto sarebbe utile. Mi sforzerò di inserire pause regolari nella mia routine lavorativa. Ottimo. Inoltre, prendi in considerazione la possibilità di praticare tecniche di gestione dello stress come esercizi di respirazione profonda, meditazione o consapevolezza. Ho sentito parlare dei benefici della consapevolezza. Sembra uno strumento prezioso per ridurre lo stress e acquisire lucidità mentale. Lo è davvero. La consapevolezza ti consente di concentrarti sul momento presente e di lasciare andare le preoccupazioni per il passato o il futuro. Promuove un senso di calma. Esplorerò sicuramente le tecniche di consapevolezza. Sembra un modo efficace per portare più equilibrio nella mia vita lavorativa. Vale la pena provare. Infine, non esitate a chiedere il supporto di colleghi o supervisori se vi sentite sopraffatti. Condividere le proprie preoccupazioni può portare a trovare soluzioni efficace. Questo è un buon punto. A volte, parlare dello stress legato al lavoro con altri può fornire nuove prospettive e consigli utili. Assolutamente. Ricorda che non sei il solo ad affrontare le sfide legate al lavoro. Cercare supporto e condividere esperienze può fare una differenza significativa. Grazie per queste preziose informazioni. Ora mi sento più attrezzato per gestire lo stress legato al lavoro. Siete i benvenuti. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda che adottare misure proattive per gestire lo stress è essenziale per il tuo benessere generale. Lo terrò a mente e applicherò queste strategie per creare un ambiente di lavoro più sano per me stesso. Grazie ancora. Lezione 22. Superare la nostalgia di casa. Ciao Anna. Mi manca tanto casa. Ho tanta nostalgia di casa. Ciao John. Capisco come ti senti. La nostalgia di casa può essere dura. Quali aspetti della casa ti mancano di più? Sono stato via per un po' e mi mancano le immagini, i suoni familiari e il calore della presenza della mia famiglia. È naturale desiderare il comfort di casa. Un modo per far fronte alla nostalgia di casa è stabilire una routine che porti elementi di casa nella vita quotidiana. È un'ottima idea. Creare una routine che includa attività familiari può aiutare ad alleviare la sensazione di essere lontani. Assolutamente. Puoi cucinare i tuoi piatti preferiti, ascoltare la musica della tua città o persino videochiamare regolarmente familiari e amici. Sono suggerimenti meravigliosi. Impegnarsi in attività che mi ricordano casa mi darà un senso di connessione e conforto. Sono lieto che li trovi utili. Un altro metodo è quello di esplorare l'ambiente circostante e abbracciare la cultura locale. Può creare un senso di appartenenza e far sentire il nuovo ambiente più come a casa. Questa è una nuova prospettiva. Invece di concentrarmi esclusivamente su ciò che mi manca, posso immergermi nella cultura locale e creare nuove connessioni. Esattamente. Interagire con la comunità, provare la cucina locale e partecipare a eventi culturali può aiutarti a sentirti più radicato nella tua posizione attuale. Ci proverò sicuramente. È essenziale abbracciare nuove esperienze e apprezzare gli aspetti unici di ciò che mi circonda. Questo è lo spirito. Inoltre, mantenere la comunicazione con i propri cari a casa è fondamentale. Condividere le tue esperienze e i tuoi sentimenti con loro può dare un senso di sostegno e vicinanza. Sono pienamente d'accordo. Una comunicazione regolare con la famiglia e gli amici può colmare la distanza fisica e alleviare i sentimenti di nostalgia di casa. Assolutamente. Infine, concediti il tempo di adattarti. La nostalgia di casa è un'esperienza comune, soprattutto quando ci si trova in un posto nuovo. Siate pazienti e gentili con voi stessi durante questa transizione. Grazie. Il tuo consiglio è davvero prezioso. Sarò paziente con me stesso e adotterò misure proattive per superare la nostalgia di casa. Siete i benvenuti. Ricorda che è naturale sentire la mancanza di casa, ma con tempo e impegno, troverai un senso di appartenenza e creerai nuovi ricordi nella tua posizione attuale. Apprezzo il tuo supporto. Adotterò queste strategie e mi concentrerò sulla costruzione di una vita appagante ovunque mi trovi. Lezione 23. Fitness Talk, allenamento cardio e della forza. Ciao Anna, mi sto concentrando su una combinazione di allenamento cardio e di forza per la mia routine di fitness. Quali sono i tuoi pensieri? Ciao John. Sembra un ottimo approccio. Gli esercizi cardio aiutano a migliorare la salute cardiovascolare, mentre l'allenamento della forza aumenta la forza e il tono muscolare. È un approccio completo al fitness. Sono felice di sentirlo. Gli esercizi cardio come la corsa e il ciclismo mi fanno battere forte il cuore e dopo mi sento pieno di energia. Assolutamente. Gli esercizi cardiovascolari aumentano la resistenza, migliorano la circolazione e possono persino migliorare l'umore. È un modo fantastico per mantenersi in forma e in salute. Non potrei essere più d'accordo. D'altra parte, l'allenamento della forza è stato utile per costruire muscoli e migliorare la mia forza complessiva. È fantastico. L'allenamento di forza aiuta ad aumentare la densità ossea, migliorare la postura e aumentare il metabolismo. Fornisce inoltre vantaggi funzionali per le attività quotidiane. Ho notato miglioramenti nella mia postura e nella forza complessiva da quando ho incorporato l'allenamento della forza nella mia routine. È stato piuttosto gratificante. È bello sentirlo. Ricordati di concentrarti sulla forma corretta e di aumentare gradualmente l'intensità degli esercizi di allenamento della forza. Assolutamente. Do sempre la priorità al mantenimento della forma corretta per prevenire infortuni e massimizzare i benefici dei miei allenamenti. Meraviglioso! Un altro aspetto da considerare è l'integrazione di esercizi di flessibilità, come lo stretching o lo yoga, nella routine di fitness. Aiuta a migliorare la flessibilità e riduce il rischio di lesioni. Questo è un buon punto. Dovrei includere esercizi di stretching per migliorare la mia flessibilità e assicurarmi che i miei muscoli rimangano agili e privi di lesioni. Sicuramente. Lo stretching aiuta il recupero muscolare e può anche favorire il rilassamento e il sollievo dallo stress. È una preziosa aggiunta a qualsiasi routine di fitness. Mi assicurerò di incorporare regolarmente esercizi di stretching. È importante prendermi cura del mio corpo e promuovere il benessere generale. Assolutamente. E non dimenticate di ascoltare il vostro corpo. Se hai bisogno di giorni di riposo o di recupero, è essenziale concederti quel tempo per un corretto ringiovanimento. Hai ragione. Il riposo e il recupero sono importanti tanto quanto l'esercizio. Mi assicurerò di concedermi il tempo necessario per riprendermi e ricaricarmi. È bello sentirlo. Ricorda che la coerenza è fondamentale. Rimani fedele alla tua routine di fitness e continuerai a vedere progressi e a trarne i benefici. Grazie per le tue preziose informazioni. Sono motivato a continuare il mio percorso di allenamento cardio e della forza con rinnovata dedizione. Siete i benvenuti. Sono lieto di esserti stato utile. Rimani concentrato e goditi il processo di miglioramento della forma fisica e del benessere generale. Lo farò. Lo facciamo con uno stile di vita sano e attivo. Lezione 24. Ristorazione per amici vegetariani. Ciao Anna. Con l'imminente incontro, ho sentito che ci sono alcune restrizioni dietetiche. Non proprio, ma alcuni dei nostri amici sono vegetariani. Ciao John. Buono a sapersi. È sempre opportuno soddisfare le diverse preferenze alimentari. Posso portare un piatto principale vegetariano. Sarebbe fantastico. Voglio che tutti si godano il pasto e avere opzioni vegetariane farà sì che tutti si sentano inclusi. Assolutamente. È importante rispettare e soddisfare le diverse scelte dietetiche. Preparerò un delizioso piatto principale vegetariano che tutti potranno gustare. Apprezzo il tuo impegno. Quali sono alcuni piatti vegetariani popolari che mi consigliate? Un'opzione potrebbe essere un gustoso soffritto di verdure con tofu o un abbondante curry di lenticchie con spezie aromatiche. Entrambi sono nutrienti e deliziosi. Fanno venire l'acquolina in bocca. Sono sicuro che i nostri amici apprezzeranno la varietà e i sapori. Che ne dite di contorni o antipasti? Per i contorni, possiamo avere una rinfrescante insalata verde mista con una vinaigrette piccante o verdure arrostite con erbe aromatiche e una spolverata di parmigiano. Scelte eccellenti. Un'insalata aggiungerà freschezza, mentre le verdure arrostite forniranno un elemento soddisfacente e saporito al pasto. Sono contenta che ti piacciano le idee. E per gli antipasti, possiamo preparare un piatto di coloratissime crudite di verdure con una gustosa salsa o degli involtini primavera croccanti ripieni di verdure. Questo è perfetto. Il piatto di verdure e gli involtini primavera saranno un ottimo inizio di pasto, offrendo una varietà di consistenze e sapori. Mi fa piacere che la pensi così. Possiamo anche offrire un dessert vegetariano, come una macedonia di frutta o una deliziosa mousse al cioccolato a base di ingredienti vegetali. Splendidi suggerimenti. Una macedonia di frutta leggera e rinfrescante o una ricca mousse al cioccolato daranno un dolce finale al raduno. Sono entusiasta di contribuire al pasto e assicurarmi che i nostri amici vegetariani abbiano deliziose opzioni da gustare. È tutta una questione di inclusività. Assolutamente. Considerando le preferenze alimentari di tutti, creiamo un ambiente inclusivo e accogliente per i nostri amici. Effettivamente. Si tratta di promuovere un senso di solidarietà e assicurarsi che tutti si sentano apprezzati e ben accolti. Grazie per la tua premura e le tue deliziose idee. So che il nostro incontro sarà memorabile con queste opzioni vegetariane. Siete i benvenuti. Sono lieto di esserti stato utile. Facciamo di questo incontro un'esperienza deliziosa per tutti, indipendentemente dalle loro scelte alimentari. Sicuramente. Diamo il via a un incontro all'insegna del buon cibo, dell'ottima compagnia e dell'inclusione per tutti.